Don Carmine, alle nostre spalle il santuario del Sacromonte di Novivelia, come da tradizione il santuario ha aperto le porte nell'ultima domenica di maggio. Quest'anno però volete ulteriormente far sentire la vostra presenza sul territorio organizzando degli incontri, si terranno tutte le domeniche di luglio, parliamo dell'iniziativa Luglio d'Arte, poesia e religiosità popolare al santuario. Allora perché questo evento? E allora naturalmente è un evento culturale perché io non so disgiungere la cultura dalla religione, dalla religiosità. Quindi domenica scorso c'è stata una bella manifestazione, la rosa più bella per il santuario, quindi sono state donate delle piante di rosa, le abbiamo sistemate ai piedi della via Crucis ed è uno spettacolo. Quindi trovare ogni pianta alla targhetta che porta inciso il nome del donatore ed è una cosa molto bella. Da domenica prossima invece cambia un pochettino l'aspetto, è più culturale, quindi la poesia, la poesia mariana. Quindi ci sono delle conferenze, degli interventi di professori universitari e poi in coda c'è il Certamen Poeticum Marianum. Quindi concorreranno dei ragazzi della nostra zona, del nostro territorio, dei ragazzi, dei giovani già prenotati, non solo del nostro territorio, ma già domenica per esempio vengono da Moliterno, animeranno la messa, celebrerà il parroco di Moliterno e poi ecco la conferenza del professore Guarracino con tre interventi di professori universitari e in coda ecco questi poeti in erba che declameranno i loro componimenti. Sarà una cosa molto bella, sarà il 6, il 13 e il 20. Il 27 poi ci sarà la premiazione e quindi naturalmente ci sarà un unico premiazione però tutti quanti avranno una coppa.